Quando fai hip thrust non senti glutei, ti spiego subito perché. Allora, prima di tutto devi sapere che i glutei sono dei muscoli forti, quindi probabilmente stai caricando troppo poco, quindi aumenta il peso. Oppure stai facendo l'esecuzione scorretta. Prima di tutto ricordati di non mettere i piedi né troppo vicini e neanche troppo lontani, quindi scegli la misura corretta e oltretutto arriva su nel punto di massima contrazione, quindi bene, retroversione del bacino, tutto il movimento lo seguo con il corpo. Non faccio questo, ma scendo, scendo, scendo con tutto il corpo e su. Eccolo!